Ecco ancora un drammatico incidente sulle strade aretine, tra le cause insomma potrebbe esserci l'attraversamento di un ungulato, è emergenza nel territorio aretino in tema di ungulati quindi caprioli e cinghiali? Sì, è sicuramente un'emergenza, questa in particolare perché riguarda la vita delle persone, poi c'è un'emergenza legata all'agricoltura, c'è un'emergenza legata a tante altre cose, però questa è una vera emergenza dimostrata dal fatto ultimo di ieri che ha visto morire un bimbo di 4 anni per colpa di un capriolo e questo capisce bene che fa cadere le braccia a chiunque, io sono nonno di molti nipoti, ce n'ho una di 4 anni quindi mi trema la voce nel parlarne. Mi avete chiamato in qualità di presidente dell'associazione Futur Caccia Cinghiala e Aretini, ai quali mando gli auguri di Buon Natale, un in bocca al lupo per le ultime giornate di caccia, ma diciamo io stasera parlo a titolo personale perché è una cosa che riguarda la mia esperienza di cacciatore, di uomo di campagna che ha sempre vissuto a contatto con la natura, che ha visto nascere e poi crescere questa situazione che è diventata un problema. Prima era una situazione piacevole per noi cacciatori perché furono gli animali, parlo di cindiali o anche forse caprioli, iniziarono nel 1970 quando io cominciai questo tipo di caccia al cindiale, non al capriolo, e allora la situazione era piacevole. Poi sempre di più si è dimostrata un'emergenza, un'emergenza data dal fatto che sono animali che sono difficilmente controllabili, hanno trovato un territorio dove poter, diciamo, pascolare in maniera, non dico indisturbata, ma quasi. Se è creata una situazione, purtroppo, mi dicono, voluta dall'uomo, cioè per cercare di arginare questa cosa, oltre che fare un pressing su noi cacciatori, è stato lanciato i lupi. I lupi cosa fanno? Non vivono nelle città, vivono nelle montagne. E gli animali predati, cioè caprioli e cindiali, non stanno dove ci sono i predatori. Ecco perché gli animali, anche per altri motivi, ma soprattutto per questo, vengono sempre di più nelle zone abitate, conseguentemente vicino alle strade, vicino alle città. Credo che questo sia uno dei motivi. Dopo va a sé il problema della siccità di quest'anno, che per fortuna, diciamo, da un punto di vista, ecco, sempre rivolto a questa problematica, ha ucciso tantissimi animali, soprattutto cindiali, ne ha morti tantissimi, perché è stata una siccità spaventosa. Però la situazione è questa. Sono in aumento anche a livello numerico? Sì, sono in aumento decisamente. Sono in aumento e alcune cose sono dovute anche a una, secondo me, brutta gestione della cosa. Perché le dico che fino a qualche anno fa, per esempio parlando del Capriolo, perché, parliamoci chiari, gli incidenti stradali sono dati da chiunque e da qualunque animale. Anche una lepre può creare un incidente stradale. Però, sa, quando un automobilista si trova davanti a una lepre, può avere anche il sangue freddo di metterla sotto. Quando vede un animale di più grosse dimensioni, parlo di cindiali e di caprioli, istintivamente gli viene di evitarlo. Se poi di là, purtroppo come ieri, c'è un camion, lei capisce quello che succede. Però la legislazione, secondo me, sta sbagliando. Perché per i caprioli in particolare, fino a qualche anno fa, era consentito di uccidere le femmine e i piccoli anche nel periodo estivo. Adesso ai cacciatori di selezione, che io non sono tale, però ai cacciatori di selezione al capriolo, gli è impedito di ucciderli in quel periodo. Conseguentemente, la loro caccia si svolge nel periodo invernale, quando gli animali, sempre i caprioli, sono stressati dalle altre cacce, al cindiale, al fagiano, alla lepre, sono molto più sospettosi, quindi ne viene uccisi di meno. Ecco, secondo me, una prima soluzione, che potrebbe essere immediata, è cambiare e consentire a cacciatori di selezione di aumentare il numero degli animali e di ridargli la possibilità di ucciderli d'estate. Questo almeno, visto che in Italia è l'unico paese in Europa in cui non si può cacciare il capriolo col cane da seguita, perché sarebbe molto facile allora ucciderli, capito? Va bene, è la legge, la legge si rispetta. Però, perlomeno questa, ritorniamo alla legge di prima. Io credo, non sono un esperto di caprioli, però vedo i danni che fanno, oltre che di questo genere, che ne basta uno per decidere di diminuirli in maniera drastica, ma fanno dei danni all'agricoltura e ai boschi, ai boschi, in maniera che pochi se ne rendono conto. Cosa si potrebbe fare per contenere questo problema, per arginarlo? La prima cosa è che la regione, la regione che ha, diciamo, la giurisdizione su questa cosa, faccia, per esempio, questa cosa che ho detto. Poi ce ne sarà tante altre, ma vanno studiate tutte per diminuire questo animale, non per portare rispetto agli ambientalisti, agli animalisti, alle madonne varie, che i bambi, i bambi, i bambi, i bambi fanno morire bambini e quindi basta. Ma con questo anche i scindiali, però sui scindiali è stato fatto un qualcosa di drastico, capito, che ha portato a pochi risultati, non voglio entrare in polemica con niente. Però, parliamoci chiari, noi cacciatori di scindiali riuniti in squadre uccidiamo 14.000 animali all'anno. I cacciatori di selezione del Capriolo ne ammazzano, credo, 3.500 e già fanno qualcosa. Ma se voi pensate che c'è delle associazioni, sapete benissimo quali sono, che vorrebbero far smettere i cacciatori di cacciare, voi ditemi dove si potrebbe andare a finire se un anno noi si sta fermi. 14.000 scindiali diventano 100.000 scindiali l'anno dopo. Quindi, è bene aprire l'occhio e finire con le finzioni e dire che sono indispensabili i cacciatori, sono indispensabili leggi che devono drasticamente diminuire la presenza di questi animali. Non c'è niente da fare. Noi cacciatori di scindiali siamo i primi a dire che nelle zone non vocate, cioè le zone agricole, le zone non deve esistere questo animale. Non deve esistere. La stessa cosa varrà per il capriolo, io penso, perché se no è inutile continuare a parlare e a causare. Bisogna dire le cose chiare e questi signori che le vogliono proteggere in tutte le maniere devono, non so se responsabilizzarsi della situazione, perché vede, se io, a me mi esce un cane di casa e fa un incidente, io credo che penalmente sono responsabile. Allora, un capriolo, chi è il proprietario? Lo sa chi è? Lo Stato. Lo Stato come fa a preservarsi dalle responsabilità? Mette un cartellino con scritto attenti che potrebbe attraversare un capriolo. Ma allora, cominciamo ognuno a prendersi le sue responsabilità e poi dopo purtroppo gli incidenti avvengono uguali, ma perlomeno la coscienza sa a posto. Perfetto.